Ben trovati alle TG Med Sport, verso la sfida contro il Brescia con le idee molto chiare, almeno secondo gli ultimi allenamenti. Rientra Lafferty, dovrebbe trovare posto in avanti accanto a Dybala, è invece obbligata la sostituzione di Angelcovic, è squalificato al suo posto, giocherà Milanovic, poi sarà la stessa formazione che ha battuto di fatto la Juve Stabia con l'unica eccezione di Vasquez. Palermo dunque ha una buona opportunità di allungare ancora, mantenere la corsa in testa alla classifica contro un Brescia invece decimato da infortuni, ma anche da squalifiche, non sono Caracciolo e Sodigna, ma anche Paci e Di Cesare. Dunque questa la settimana del Palermo ci sarà sicuramente Edgar Barreto, il capitano del Palermo ha voluto parlare anche del rapporto e del clima che si respira alle Barbera. Ascoltiamo. È un doppio taglio diciamo, però credo che i ragazzi l'hanno interpretato nella maniera giusta e abbiamo avuto la cattiveria giusta per portare a casa i tre punti. Questo è merito di tutto il gruppo perché vuol dire che si lavora bene, che quello che è chiamato in causa risponde sempre alle aspettative. Sicuramente tutti vogliamo giocare, tutti vogliamo dare il nostro contributo, però purtroppo sono 11 quelli che vanno in campo e fino adesso quelli che hanno giocato di meno credo che sono stati quelli più importanti per questi tipi di partite. Questo periodo sarà molto importante anche il sostegno dei nostri tifosi perché dobbiamo affrontare una striscia di partite molto impegnative. Quindi è un periodo nel quale dobbiamo stringerci ancora di più sia noi qua dentro che con i nostri tifosi e sicuramente loro ci possono dare una grossissima mano per raggiungere questo obiettivo. e hai allungato di 7 punti alla seconda e di 8 alla terza bene o male tante volte anche inconsapevolmente tendi un po' a rilassarti. Però credo che abbiamo una squadra intelligente che sa cosa ci stiamo giocando e che sa che adesso entriamo in una striscia di partite molto impegnative nel quale ci sono partite di scontri diretti e quindi vogliamo dare seguito a questo campionato, dare continuità ai risultati e mantenere questo vantaggio. Riguardo al Brescia è una squadra che adesso viene una sconfitta dentro casa e sicuramente contro il Palermo tutti vogliono fare la partita e noi staremo qua ad aspettarli. Giornata interessante anche dal punto di vista societario perché nel corso dell'incontro La Repubblica in libreria, una iniziativa del quotidiano palermitano con la presenza di Beppe Iachini, si è parlato questa volta di sport ma anche del consigliere delegato Angelo Baiguera che invece ha parlato di progetti per il nuovo centro sportivo e lo stadio, i moderatori, il nostro Salvatore Geraci e ovviamente anche Massimo Norrito come sempre in prima fila come opinionisti a rosa e nero. Allora ascoltiamo dal punto di vista societario quali sono i passi secondo il consigliere delegato Angelo Baiguera. La programmazione ha due step molto molto importanti, il primo è il centro sportivo, centro sportivo che stiamo costruendo nonostante la burocrazia, dovremmo iniziare i lavori o a giugno o a settembre, dipende da alcune carte che ancora devono arrivare, ma nel giro di un anno dovremmo avere un centro sportivo davvero invidiabile in tutta Italia con 4 o 5 campi da calcio, con tutta una serie di agevolazioni per il pubblico che verrà a vedere gli allenamenti o le partite amichevoli, le giovanili per la stampa che avrà un settore dedicato. Quindi una cosa molto bella alla quale teniamo molto. E poi stiamo dialogando con il Comune perché è tornata al Comune l'idea dell'impianto, quindi dello stadio nuovo. Io credo che lo stadio di proprietà sia una cosa di fondamentale importanza, sia per attrarre investitori, sia per avere quell'autonomia necessaria a far sì che una squadra sportiva professionistica abbia tutto ciò che serve per essere competitiva. Il Trapani va a Latina con l'unica defezione di Gambino che è squalificato e dunque in avanti giocheranno ancora Iunco e Mancoso. Invece si gioca tutto il Catania a Sassuolo in Serie A domenica. È una sfida determinante per la salvezza. A inizio settimana le parole del presidente Pulvirenti e invece adesso ha parlato il difensore argentino. Nicola Spoggi. No, penso che sia fondamentale vincere perché è uno scontro diretto e perché io ho fiducia in questa squadra e penso che una partita fuori casa, se c'è una partita fuori casa da vincere, deve essere questa. Quindi speriamo di fare un'ottima gara e cercare di ottenere i tre punti e poi piano piano pensare alla Juve e al Napoli. Io penso che l'unica strada è il lavoro, lavorare, andare oltre tutto. Penso che sia la cosa giusta. Cercare di guardare avanti, di sapere che tutti, nessuno escluso, abbiamo commesso gli errori. Cercare, come ho detto prima, di commettere di meno. Per raggiungere l'obiettivo che sicuramente, come ho sempre detto, sarà molto difficile ma sicuramente non è impossibile. No, penso che in questo periodo, oltre alla tattica, che è sicuramente importante, bisogna entrare in campo con la rabbia di guardare la classifica e ritrovarci lì sotto. Quindi se tu guardi la classifica due secondi prima, entri in campo con la rabbia di vederci lì, a me particolarmente non piace. Penso che ogni uno di noi deve buttare fuori l'orgoglio e deve andare là a sciogarci, diciamo, come ho detto prima, forse la partita più importante del Catania. Andiamo su trmweb.it, nella sezione sport, per leggere ovviamente tutti gli approfondimenti sportivi. Ritrovate ovviamente il servizio con la Repubblica e Libreria, Iachini e Baiguera, che parlano alla Libreria Modus Vivendi. E poi notizie che riguardano la pallavolo con il Sigel Marsala, in B1 femminile. Parte lo sprint promozione, si arriva da tre vittorie consecutive. E dunque la possibilità contro Agrigento di continuare ancora per accorciare il distacco in classifica. Invece noi, come vedete, parliamo di football americano. Lo facciamo parlando di Cardinals e Sharks. C'era il derby in programma nell'ultima domenica. La vittoria è andata ai Cardinals per 14 a 17 con le due mete, i due touchdown di Abbadessa e poi Spinelli. Invece l'unica meta per gli Sharks è arrivato da Alessandro Scelta. Una partita poi controllata dai Cardinals in tutti i restanti quarti. Grande soddisfazione ovviamente per tutto lo staff, per gli Sharks. Nonostante la sconfitta, grandi segnali da parte del collettivo con la consapevolezza che la partita poteva tranquillamente essere portata a casa. Questo è il commento dell'altra squadra palermitana, Cardinals dunque che hanno così vinto la seconda partita su due. Adesso il 16 marzo si gioca contro gli Elephants a Catania. Per capire chi sarà leader del girone A di questa seconda divisione. Noi abbiamo parlato con Marcello Moscato che è l'offensive coordinator dei Cardinals. Questa l'abbiamo portata a casa con molta fatica. La squadra avversaria, tanto di cappello, sono stati dei denti avversari. Per la prossima partita speriamo di essere la prima squadra in Sicilia. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.